Tre sindaci è un solo obiettivo, valorizzare il sito archeologico di Monte Corvino, ai piedi dei Monti Dauni settentrionali. L'evento, che concretizzerà l'impegno e darà via al programma delle iniziative, è fissato per la sera di mercoledì 23 agosto. L'antica torre, dimora di Re Federico, ribattezzata sedia del diavolo, per la prima volta sarà illuminata da un grande faro. L'idea è del sindaco di Motta, Domenico Javagnilio, condivisa dai sindaci di Pietra, Raimondo Gianlella, e di Volturino, Antonio Santa Croce. L'attesa manifestazione prenderà il via dal comune di Motta, a bordo di Gip Navetta. Alle 21.30 il raduno sotto l'antica cattedrale di Monte Corvino, dove i tre sindaci annunceranno tutte le iniziative. Esperti e docenti in materia presenteranno anche i risultati dei lavori dell'Università degli Studi di Foggia.